Onza, doza, trezza, catorza, quinza, sezza, le sez, le wint, le nou, vint. E con son fetta sa che c'è stata scritta. In algerese. An-rit. Analgares. 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 Cren, 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 cren. E tambea ananchii. Ma quante scritte ci sono di là? C'è scritto anche il nome. Allora, questo per dirvi che un libro è fatto di pagine, di spette di paginas, di parole, di scrittura, di parauras, di scrittura, di immagini, che qua non ci sono, ma sono gli altri libri, sì. E poi di una bellissima copertina. Non le copertine che si usano per dormire. Non sono le copertine che si usano per dormire, vero? Ma anche il libro ha bisogno della sua copertina per essere protetto, vero? Sì. Perché ci possono essere poche immagini, tante immagini, poche scritte, tante scritte, pagine profumate o pagine puzzolenti. Immagini grandi o immagini piccole, piccole, piccole isoque rental. Cosa dirai un angattese? Spatittas. Spatittas. Spaginas patittas. Grazie.